Roberto, dove siamo? Siamo alla Place Vendôme, direi, in cui c'è la famosa colonna con le imprese politiche e militari di Napoleone, colonna di bronzo sul modello degli imperatori romani, della colonna di Fraiano, eccetera. E ti racconto anche una piccola storia. Quella colonna, la statua in cima di Napoleone, ma quella statua venne tolta durante la comune di Parigi, perché i comunardi decisero di togliere la statua di Napoleone in segno di disprezzo nei confronti delle guerre. Poi ovviamente i comunardi vennero sconfitti e repressi e alla fine, infatti, venne riposta la statua di Napoleone. Comunque la piazza è bellissima, è tutta la stile settecentesca, fei settecenti direi.